Per cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 1935. Dalla vitalità del terreno alla vitalità del cibo che mangiamo, la filosofia della biodinamica con il presidente dell'associazione piemontese Raffaella Mellano e Rossella Russo del CNR IBBA di Pisa. E continua il viaggio della TGR Piemonte nell'alimentazione, nel cibo che è anche filosofia. Prende il nome da una dea greca della fertilità Demetra, la certificazione Demeter dei prodotti biodinamici, l'agricoltura che rispetta insomma armonia ed equilibrio della natura. Ed è stata elaborata intorno al 1924 dal filosofo Rudolf Steiner. Sentiamo Claudia Pregno. E' una vera filosofia l'agricoltura biodinamica, parola chiave rispetto per la natura, per l'uomo, per il succedersi delle stagioni, per il tempo. Delle 400 aziende italiane, 43 sono piemontesi. La fattoria è un organismo a circuito chiuso. La fertilità e la vitalità del terreno derivano dall'etame, da compost vegetale e da altri nutrienti, purché siano tutti naturali e della stessa azienda. Per noi biodinamici quello che entra nel nostro corpo è importante. Questo ha una funzione perché è quello che poi ci ritroviamo, rimane dentro di noi e poi passa ancora all'ambiente. Quindi davvero ogni volta che scegliamo un prodotto diamo un voto a chi lavora in un certo modo, diamo un voto a chi è attento al territorio, a chi aiuta tutti noi, anche la società stessa, a progredire. Perché comunque fare agricoltura biologica e biodinamica significa pensare al futuro. Per il consorzio Natura e Alimenta di Aliene e il Canavese il biodinamico rappresenta l'eccellenza alimentare. Ma c'è una sola regola che vale sempre in agricoltura e questa. Più vitale e naturale è la terra, più il cibo è ricco di nutrienti, più è sano per noi. Ogni alimento ha un effetto diretto sull'organismo e può anche prevenire malattie. Abbiamo molte sostanze che sono normalmente presenti nella dieta mediterranea che hanno un effetto diretto sulla circolazione. Basti pensare all'aglio. Altre sostanze invece ci aiutano a combattere radicali liberi come l'icopene del pomodoro, il betacarotene delle carote. Integrità delle sostanze vale per le materie prime ma anche per i prodotti trasformati. Ecco allora che quando si va a fare la spesa bisogna prestare molta attenzione alle etichette a partire dall'origine del prodotto. Da dove viene, dove è stato coltivato se è un cereale, dove è stato allevato se è un animale. Etichette molto corte solitamente sono le migliori perché significa che il prodotto è il più naturale possibile. Anche in questo caso qualche regola. Se nell'etichetta non riconosciamo un ingrediente non compriamolo. Poi ricordiamoci che quel che fa male alla terra fa male a noi e che è importante conoscere come è stato prodotto, come è viaggiato, come è stato conservato l'alimento che acquistiamo, finalmente a tavola. E possiamo mangiare di tutto. Il corpo ha bisogno di tanti nutrienti ma mai in eccesso. Quindi un'altra regola alzarsi sempre con ancora un po' d'appetito. Qualsiasi sostanza, anche la più benefica come possono essere anche la vitamina A o la vitamina E, in eccesso provocano danni al nostro organismo. Si va infatti in ipervitaminosi.